Il primo step del progetto è quello del recupero dei semi antichi. Il primo prodotto che abbiamo preso in considerazione è stato il mais rosso otto file, che era tipico delle nostre aree. Attraverso il recupero di un numero minuscolo di semi e della riproduzione di questi semi siamo arrivati a un certo quantitativo per creare una rete di produttori che producono questo seme di mais rosso e poi noi trasformiamo in farina di polenta e da quello ha preso avvio la nostra manifestazione, la polentata del brigante. È una caratteristica importante anche per il territorio, il recupero. Sicuramente è una caratteristica importante per il territorio. Abbiamo riscontrato nell'arco dei primi dieci anni che è anche una grossa soddisfazione quella che ci danno i consumatori perché automaticamente partecipano alla nostra polentata tutti gli anni e tutti quanti ci riconoscono che quello è veramente il sapore della polenta di una volta e questo è quello che ci dà la più grande soddisfazione. Nell'ambito invece del progetto La Terra dei Briganti quest'anno stiamo affrontando un ulteriore step che è quello della creazione di una piattaforma per la promozione e commercializzazione dei prodotti. È un appuntamento in crescendo, siamo alla tredicesima edizione. Come ripetevo ai suoi colleghi, sono numeri straordinari che nel tempo aumentano sempre di più e che tramite la conservazione di questo seme autoctono consente di portare a conoscenza le prelibatezze del nostro territorio, tra l'altro attraverso una filiera veramente corta che dà il produttore al consumatore. È una valorizzazione appunto per il territorio con tante persone che sicuramente arriveranno. Sì, mi hanno detto che l'anno scorso ci sono stati numeri importantissimi e d'altronde vengono organizzate due settimane proprio per consentire a tutti quanti di usufruire di questa manifestazione. Potrebbe diventare in futuro, parlavamo prima anche con il responsabile del progetto, un prodotto a commercializzare proprio di Cortino? Penso che sia l'obiettivo della Prologo e che incontra sicuramente i favori dell'amministrazione comunale. Quindi ci auguriamo che si vada su questa strada.